Le segreterie regionali di CGL, Cisla, UGL e CIMOP esprimono soddisfazione per il celere e positivo andamento sull'inserimento dei lavoratori di Villapini, riscontrato all'esito del quarto incontro di verifica tra sindacati e Policlinico Abano Terme, per il monitoraggio della corretta rispondente applicazione dell'accordo sindacale, siglato tra le parti in data 8 settembre 2010. Si ricorda che l'impegno preso dalla nuova gestione della Casa di Cura prevede a regime la riassunzione di 483 lavoratori. Entro la data ultima del 31 dicembre 2011. I dati oggi forniti in questo senso, ovvero dopo soli due mesi della riapertura delle attività, sono di 378 assunti. Rimangono fuori dall'appello degli aventi diritto in via prioritaria 91 dipendenti che l'azienda assicura con buona possibilità di poter ricollocare entro la fine dell'anno 2010, cioè con un anno di anticipo sul cronoprogramma previsto. Nel frattempo, affermano i sindacati, si apriranno reali possibilità anche per gran parte di quei lavoratori che oggi sono rimasti esclusi dall'elenco ma potenzialmente ricollocabili al momento che l'organico di Villapini lo consenta, in quanto risulti carente di quelle specifiche professionalità. In questo senso, già ad oggi risultano stati riassunti 21 lavoratori da questo secondo potenziale elenco, ma su questo positivo quadro i sindacati di categoria devono loro malgrado registrare il permanere dell'esistenza di un grave vulnos che come una spada di Damocle incombe su pazienti e lavoratori rappresentato dalle incomprensibili problematiche di autorizzazione e accreditamento di parte delle strutture di psicoriabilitazione di Villapini, alla cui soluzione è legato il destino di circa 100 pazienti e 115 lavoratori che per questa ragione sono stati assunti a tempo determinato.